Ad Arcoiris, bellezza, arte e psiche, tre parole che delineano la bellezza e soprattutto le virtù di una donna. E bellezza, arte e psiche hanno un legame tra di loro perché rendono ben visibile il bisogno che una donna sente di andare oltre a ciò che fa vedere. L'arte è il cuore del fascino che rende eterna la bellezza ed entrambi risultano essere strettamente connesse alla psiche, la quale coinvolge la profondità della mente umana. In poche parole è una proiezione verso l'esterno, diversa dal solito, che va al di là del quotidiano e apre gli occhi della mente e del cuore, puntando più in alto verso il benessere del proprio io. Per quanto riguarda la forza delle donne, vi caratterizzate con questo convegno in che modo? Coraggio e forza appartengono alla donna perché la donna è resiliente. La resilienza è un termine che denota capacità umane di affrontare e superare le avversità e sfide della vita e l'abilità di riuscire a riorganizzare la propria vita nonostante le molte situazioni difficili. Direi che la resilienza è femmina e fa riferimento a quella prontezza d'animo con cui le donne hanno saputo combattere fino ad ora le disparità, le violenze a cui sono state soggette. Il coraggio delle donne si evidenzia soprattutto nelle loro scelte, le scelte quotidiane e attraverso questa mia manifestazione voglio sottolineare come la donna è un connubio di intelligenza, energia, passione e anche determinazione. Vi state muovendo molto sul sociale, soprattutto valorizzando, promuovendo manifestazioni sui social, sulla tutela dei bambini, sulla tutela soprattutto delle donne. Quale sarà il vostro appuntamento, il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento vertirà ancora sui social, sui rischi che questi social possono portare soprattutto ai bambini perché oggi i bambini troppo piccoli hanno già il telefonino in mano e non sappiamo effettivamente cosa guardano e cosa vedono. Quindi i rischi sono notevoli per cui Arcoiris continuerà verso questo iter. Siamo con la dottoressa Maria Frisina che è una poetessa, ha scritto molte liriche, molti poemi e in particolare è dedicata al mondo e all'universo della donna. Qui ad Arcoiris a Palmi per rappresentare, proprio per relazionare su quello che è l'universo donna. Sì, sono presente ad Arcoiris per incoraggiare le giovani modelle che sfileranno questa sera in questa manifestazione e che si sono improvvisate tali. Qual è il messaggio che vogliamo lanciare? Il messaggio che vogliamo lanciare è quello della bellezza, anche la bellezza estetica, con i difetti, perché le ragazze che sfileranno non sono ragazze perfette, sono ragazze con i loro difetti, con i loro problemi, alcune con un vissuto difficile e quindi abbiamo voluto dare questa opportunità di godere un attimo di bellezza. Quindi la bellezza non solo estetica ma una bellezza virtuale? Quello che interessa a me è soprattutto la bellezza virtuale, non do importanza alla bellezza estetica, una donna può affascinare per quello che dice, per quello che è, per quella che è la sua anima, non per quello che è la sua immagine. Il fascino femminile invece è anche una forma di poesia che la donna sa esprimere e può esprimere? Il fascino femminile è poesia ed è seduzione intellettuale, non erotica.